Oggi siamo venuti qui davanti al palazzo occupato da Casa Pound per notificare alcuni verbali che si riferiscono alla scritta e allo striscione, sono completamente illegali, quindi oggi iniziamo con le notifiche per contestare queste violazioni. Chiaramente questo comporterà una diffida a loro per rimuovere scritta e striscione, se non ottempereranno spontaneamente si procederà in modo coatto.